segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te un'ultima domanda da farti poco fa il nostro regista monti ci ha fatto vedere le immagini di un'altra donna che è la leader dell'opposizione che è l'isch line tra poco la rivediamo questo è renzi anche lui si sta all'opposizione però non abbiamo tempo di parlare di come sta con giovanni minoli però è l'opposizione fiorentino a proposito a proposito di giovani no line giovane sì non so esattamente quanti anni ha però come